Benvenuti, benvenuti a questa diretta di Stampa e Vangelo, diretta di venerdì 2 settembre del 2022. 23 giorni alle elezioni politiche, 21 giorni alla fine della campagna elettorale, tre settimane. Finalmente è andata in gazzetta ufficiale la declinazione delle coalizioni presenti per la sfida elettorale, finalmente le corti d'appello hanno sorteggiato le posizioni delle liste sulle schede elettorali. Dunque da oggi finalmente è completata l'operazione burocratica di presentazione dei simboli e delle liste, operazione che si è aperta il 12 agosto con la consegna dei simboli al Quirinale. 101 simboli, vi ricordate? Alla fine siamo rimasti in 16 liste nazionali ad essere introdotte peraltro anche nel sorteggio della Commissione di Vigilanza Rai per la cosiddetta par condicio. Quindi tutti i procedimenti si stanno completando anche con la consegna che ricordo che dovete fare a Nicola Di Matteo dei curriculum dei candidati e dei certificati dei casellari giudiziali, mi raccomando, che vanno poi inserite nel database del Ministero dell'Interno e quindi con quest'ultima procedura che si completerà nei prossimi giorni, ricordo ai coordinatori regionali che devono mandare al nostro coordinatore nazionale Nicola Di Matteo tutti i curriculum e i certificati del casellario giudiziario, si apre la contesa, chiamiamola, politica to cure. Le 16 liste nazionali presenti sono divise da una caratteristica, noi abbiamo una caratteristica che nessun altro ha e mi viene in mente il Vangelo di oggi, che è stata ammessa oggi, avrà sentito il Vangelo di oggi ma come i tuoi discepoli mangiano e bevono mentre gli altri fanno penitenza avete visto, avete sentito sicuramente il Vangelo di oggi, sono così diversi e Gesù esce con alcune frasi che rimarranno per millenni fino a oggi a significare ciò che è la novità della parola cristiana dicendo che ci vuole per il vino nuovo otri nuove altrimenti se versi il vino nuovo in otri vecchie queste si spaccano e dunque noi che siamo certamente vino nuovo abbiamo costruito un'alternativa appunto a tutto l'esistente mai come oggi il davvero stampo evangelo aiuta a rappresentare ciò che è alternativa per l'Italia Franco Canale dice gli altri sono tutti abortisti, beh questa è già una caratteristica sicuramente tutte le altre liste presenti a parte alternativa per l'Italia sono liste abortiste cioè liste che dicono non va toccata la legge 194 noi abbiamo prodotto il nostro materiale elettorale come primo poster è deve nascere dunque il diritto universale a nascere che contrapponiamo al falso diritto ad abortire il diritto universale a nascere per necessità anche sociale ormai significativa perché abbiamo bisogno di figli e dunque deve nascere è il primo slogan che abbiamo utilizzato e il no alla cultura della morte in un'altra slide che abbiamo partorito anzi che ha partorito Simone Di Stefano devo dire la verità la creatività è tutta sua del sì alla vita e no all'omicidio in qualsiasi forma sia esso l'omicidio del bambino, del sofferente, dell'affaticato, del malato, del non produttivo e dunque siamo con chiarezza l'unica lista davvero per la vita ma la divisione è un'altra la vera divisione è che su 16 liste nazionali 15 hanno 15 hanno parlamentari uscenti da rieleggere parlamentari di questa legislatura la legislatura più oscena della storia la legislatura di 500 oltre persone che hanno cambiato gruppo di parlamentare dopo l'elezione, la legislatura degli esiti osceni, la legislatura delle bollette decubblicate dell'inflazione al 10%, dell'Italia in guerra del green pass utilizzato come l'apartheid della tragedia dell'obbligo vaccinale un unico paese al mondo ad averlo applicato allo stesso tempo causando 175 mila morti ecco la legislatura più oscena della storia repubblicana pretendeva una proposta alternativa noi siamo certamente quella proposta alternativa gli altri hanno candidati, hanno parlamentari di questa legislatura da rieleggere e questo è un significativo problema quello del avere al centro la famiglia un dato politico un dato che abbiamo manifestato ieri in un dibattito televisivo di cui vi parlerò tra poco noi siamo diversi, siamo certamente diversi siamo come i discevoli di Gesù eh sì, gli altri fanno penitenza, sembrano, no? eh però noi siamo quelli alla fine che stanno con lo sposo magari siamo quelli no, no? anzi ricordo a tutti che risponderò a tutti quelli che hanno scritto per il betting per la scommessa collettiva ehm siccome alcuni eh giustamente eh hanno la testimonianza di altri amici che hanno fatto molti soldi e si hanno addirittura comprati appartamenti con la scommessa collettiva adesso c'ho moltissimi che hanno scritto per entrare perché la scommessa collettiva è un gruppo chiuso appunto un gruppo di discepoli chiuso e si può entrare solamente a settembre o a Natale quindi ehm non so chi potrò selezionare per far entrare però chi vuole può scrivere a datanolfi.com per entrare nel gruppo chiuso della scommessa collettiva del betting che noi da 17 anni gestiamo facendo ricche le persone che partecipano e se non fosse così non potrei parlarne evidentemente perché sarei tacciato eh di menzogna però questa è una modalità, uno stile di essere diversi da tanti ma tra le tante cose che ci rendono diversi lo ripeto, chi vuole partecipare al gruppo delle scommesse ad inolfi, ghioccio, a gmail.com ehm ma nell'altra modalità, al di là dello stile dell'essere mai giacca e cravatta dell'essere spesso scapestrati spettinati noi siamo anche quelli fondamentalmente eh dell'alternativa reale quale 16 liste come sono divise sostanzialmente 10 liste sono liste di sistema chiamiamole così le liste della maggioranza ehm ehm che hanno partecipato alle altre maggioranze che hanno sostenuto con il proprio voto come Fratelli d'Italia la guerra a alla Russia sostanzialmente le sanzioni a Mosca l'invio delle armi a Kiev tutto questo è rappresentato da 10 partiti delle 16 liste presenti 10 sono quelle direttamente espressione della maggioranza di unità nazionale che si è aggregata attorno a Draghi più Fratelli d'Italia che io considero la stessa cosa che votare Enrico Letta perché propone lo stesso tipo di soluzione per esempio sulle questioni eh decisive del eh della guerra a Kiev del rapporto con Biden del rapporto con la Nato del rapporto con l'Unione Europea genderista e abortista e dunque io quelle 10 liste non le considero proprio come opzione politica qualcuno vi dirà ama la Meloni ama la Meloni se non votiamo la Meloni vince Letta non è così eh il campo del centro-sinistra è diviso in tre tronconi eh Partito Democratico e Alleati eh Movimento 5 Stelle Centro di Calenda e ehm e Renzi quindi in tre tronconi è impossibile che riesca a impensierire la Meloni in nessuna maniera la Meloni vincerà poi non la faranno governare perché tutti i soggetti anche quegli alleati della Meloni puntano e tendono verso una nuova esperienza di unità nazionale come quelle che ci portiamo dal 2011 in avanti perché non vogliono far contare nulla il vostro voto chi vuole votare i partiti di sistema ma il Meloni compreso sappia che questo è l'esito precostituito è già scritto peraltro la Meloni è un'altra che sostiene eh che la cento novantaquattro non debba essere toccata eh sui temi del Green Pass del vaccino ha detto adesso non all'obbligo vaccinale non al Green Pass ma il suo candidato di punta si chiama Carlo Nordio e Carlo Nordio è uno che esplicitamente ho postato il video ritiene che i non vaccinati come me siano untori che debbono essere presi casa per casa e sottoposti a TSO cioè a trattamento sanitario obbligatorio e considera il Green Pass un gran bene quindi delle due luna o la Meloni sta mentendo ora o mentiva prima in tutti i casi non si votano le persone che mentono quindi la mia valutazione d'altro non è chiara altrimenti non avremmo proposto un'alternativa è che i partiti di blocco quelli che stanno con Draghi o che in qualche modo come la Meloni con Kiev con la Russia con il riarmo con l'innalzamento al 2% del PIL della spesa per armamenti da 25 a 38 miliardi di euro chi ha votato quella roba lì ha rispetto a noi un'alternativa noi noi non siamo loro loro non siamo noi questi dieci leviamoli da mezzo ok ne esistono altri sei una lista è quella di Mastella tenderei a escludere diciamo il consenso all'improvvisa rinascita del centro Mastelliano chiamiamolo così e lo eliminiamo come l'abbiamo eliminato il centro di Toti di Lupi dei traditori della piazza del Femmini Dei di quelli che si sono venduti la piazza del Femmini Dei hanno votato la legge Cirinna ricordiamolo sempre è un centro come al solito privo di spina dorsale che si piega a seconda delle poltrone e dei bisogni individuali dei leader quindi è qualcosa che non si può neanche lontanamente guardare e allora dieci li abbiamo spiegati diciamo così l'undicesimo partito quello di Mastella credo abbia lo stesso tipo di valutazione da fare per quanta simpatia possa avere per Clemente Mastella che è un uomo simpatico ma poi politicamente sappiamo che l'unico interesse che ha sono i fatti suoi diciamocelo chiaramente la costruzione di un'alternativa non passa da quei dieci non passa certamente dalla lista di Clemente Mastella ne restano cinque una si è presentata in pochissime circoscrizioni che è quella di dieci volte meglio unita a UCDL troppo inconsistente numericamente per essere valutata e allora leviamo pure gli amici di UCDL di dieci volte meglio anzi speriamo che nei tantissimi collegi dove non sono presenti votino alternativa per l'Italia alternativa per l'Italia la lasciamo un attimo da parte prendiamo Italia Exit presente su tutto il territorio nazionale non in Molise Italia Exit ha una proposta molto chiara una proposta post grillina diciamo grillismo dei primi tempi Paragone è un ex del Movimento 5 Stelle ha un approccio totalmente avaloriale alla cosiddetta formula alternativa dice e declama un'uscita dall'euro un'uscita dall'Europa che è tecnicamente non fattibile ovviamente nei tempi brevi in cui c'è bisogno invece di dare una risposta alle questioni concrete delle famiglie italiane peraltro sulle questioni valoriali non ha alcuna voglia di spendersi è contro la nostra opzione antiabortista è contro la nostra opzione a difesa della vita ha un'opzione appunto tutta laicista tutta avaloriale rafforzata anche da presenze diciamo così nella sua lista di persone esplicitamente anticlericali in più è coccolato dal sistema avrete notato tutte queste liste che ho citato finora lo fanno essere coccolabile perché come scrive qui Yainob Nochi Paragono è talmente generico che è quello che mette meno paura è uno che si fa capire bene che è quello che si chiama un gatekeeper uno che può essere introdotto nel sistema è tranquillamente coccolato da esso infatti lo vedete in televisione lo vedete negli spazi mediatici sui giornali è chiarissima che il sistema non teme l'opzione Paragone questo è chiaro e lo coinvolge infatti nei dibattiti pubblici e dunque preferendolo a noi certamente insomma pensate che il nostro minutaggio alla 7 in Rai in questo momento è 0 minuti mentre Paragone conta ore e ore di la 7 e dei dibattiti in Rai quindi è chiarissimo che per il sistema Paragone è il soggetto da utilizzare per far quello che hanno fatto i 5 Stelle drenare il dissenso esterno al Parlamento chi vuole votarlo evidentemente può sulla scheda elettorale ma sa che vota una lista sostanzialmente non alternativa una lista che proviene dall'esperienza grillina deve rieleggere un sacco di parlamentari provenienti dall'esperienza grillina cioè da un'esperienza di alternativa avaloriale priva di radice culturale e politica profonda se chiedete a Paragone a quale famiglia politica appartiene evidentemente Paragone non sa dare risposta risposta diversa vi darebbe per invece Italia sovrana e popolare io ieri ho fatto un dibattito col capolista d'Italia sovrana e popolare in Abruzzo dove sono capolista anch'io al Senato c'erano il capolista di vita la capolista di vita e il capolista al Senato d'Italia sovrana e popolare e il capolista d'Italia sovrana e popolare mi ha c'entra la registrazione che potete vedere il mio post precedente a questa diretta fatto suonare per tutto il tempo 68 minuti l'inno al comunismo sovietico la sua punta di diamante di riferimento culturale è il comunismo sovietico io sono incredulo ancora mi pare incredibile che qualcuno potesse ieri esaltare i soviet esaltare il comunismo del PQS considerare un nemico Michael Gorbachev considerare nemica la libertà ottenuta dai popoli europei e dalla stessa Russia con la fine del comunismo la fine della bandiera rossa sul sul pennone del Cremlino non a caso ha mai nata la notte di Natale nel 1991 eppure incredibilmente andatevi a guardare 68 minuti di registrazione il capolista d'Italia sovrana e popolare non ha fatto nient'altro per 68 minuti che esaltare il comunismo esaltare il comunismo sovietico negare che il comunismo abbia prodotto 100 milioni di morti nella sua esperienza storica dimostrandosi la realtà totalitaria più triste di sempre e più crudele e cruenta di sempre guardate io non posso dire nient'altro Rizzo avete visto ha messo la bottiglia di champagne la notte a cadavere caldo in cui era morto Mikhail Gorbachev dando la stura a questa posizione del partito Italia sovrana e popolare però se non avevate capito bene gli intendimenti di Rizzo vi posso dare certezza che l'amico capolista al senato di Italia sovrana e popolare in Abruzzo per 68 minuti non ha fatto altro che decantare la bellezza del comunismo sovietico ora chi ha questa idea di totalitarismo in testa è prossimo a forme di totalitarismo a cui non darei mai non solo consenso ma neanche spazio di parola se potessi e quindi mi ritrovo con chi dice il comunismo sovietico fu peggiore del nazifascismo non c'è dubbio ragazzi non sto facendo propaganda vi andate a guardare il filmato 68 minuti oltre a essere questo signore abortista a voler proclamare una distanza non mi piace la famiglia tradizionale una serie boiate una dopo l'altra ma sentite la sostanza di quello che ha dichiarato nel dibattito in confronto con me in cui ha detto con grandissima chiarezza che il suo punto di riferimento storico è il partito comunista dell'unione sovietica non è una roba che io non ero preparato a gestire diciamo potete però ascoltarlo così capite che cos'è Italia sovrana e popolare perché il rizzo comanda e perché c'è nel simbolo una stella rossa che è esattamente la stella rossa che c'è sul simbolo del partito comunista sovietico e su quella bandiera che venne ammainata la notte di Natale nel 1991 e che oggi è evidentemente riferimento di queste persone Stefano Fabri dice fa comodo ridurre ISP a un partito comunista qualunque non fa comodo ma se questi si presentano Stefano in televisione a un confronto politico e presentano sul simbolo una stella rossa e dicono che l'aborto deve essere mantenuto la famiglia tradizionale è un valore che non esiste che il partito comunista e l'unione sovietica è un modello e Gorbaciov è un nemico del popolo perché ha abbattuto il partito comunista e l'unione sovietica beh insomma io non posso rimanere indifferente ci sono amiche come Silvana De Mari che hanno detto e votano per questo partito e che alternativa per l'Italia è troppo cattolica ora io conosco la buona fede di Silvana De Mari conosco la persona mi sembra molto difficile davanti a queste continue reiterazioni dell'evidenza che Marco Rizzo domina da una posizione comunista sovietica quel partito possa veramente dare il voto a quella roba là dite a Silvana De Mari che Maria Di Nolfi le rivolge un caldo appello a rivalutare il voto il 25 settembre attraverso lei tutti i cattolici che possono pensare di votare un partito dominato da abortisti negatori della famiglia naturale e nostalgici del comunismo sovietico con tutto con tutto il bene che possiamo volere a a Rizzo e compagnia e sapete che ho fatto di tutto per costruire un rassemblement di tutte le forze antisistema affinché tutti insieme fossimo uniti e superassimo il slancio e lo sbarramento poi ci saremmo divisi dopo ma io ho tentato ogni carta per l'unità quindi non mi si può tacciare di avere un pregiudizio il pregiudizio al limite l'ho subito però davanti a quello che viene detto pubblicamente in televisione in un confronto televisivo io Maria Di Norfi devo dare un giudizio giudizio politico come dice Federica Lupi che tra l'altro è la nostra capolista in Abruzzo capolista Camera se non vado errato questo sulla famiglia tradizionale ha detto gli fa schifo la famiglia cioè va bene tutto ma i punti di collegamento se non ci sono non ci sono se poi sei uno che teorizza che teorizza che quella che c'è stata oggi è una dittatura non mi puoi proporre un modello dittatoriale come quello del comunismo sovietico come un modello positivo perché è esattamente il modello che va invece combattuto passiamo poi a Vita che è l'altra lista che ho avuto l'onore di conoscere meglio nel confronto televisivo anche qui con la capolista al senato in Abruzzo non una passante la capolista di vita al senato in Abruzzo ci ha spiegato che l'aborto è uno strumento etico ha fatto molta confusione e dimostrato una sua totale inadeguatezza a poter sostenere un qualsiasi ruolo non dico governativo ma anche solo parlamentare non capisce l'abc delle tematiche quando poi siamo entrati nei temi appunto etici la mia la mia proposta è guardate cosa ha detto sull'aborto guardate come Cinci schiava e non riusciva a capire il concetto stesso di bambino come soggetto di diritti bambino nascituro quindi insomma la questione in vita è che siamo dentro proprio alla peggiore narrazione grillina che ripete la parola onestà onestà priva di contenuti e quando poi si va a scendere nel concreto la concretezza lì non esiste non esistono proposte esiste esiste veramente l'assoluta l'assoluto stato confusionale d'altronde basta leggere anche le proposte o ascoltare un discorso di Sara Cunial che è il capo di questa di questa congrega francamente io lo ripeto non voglio essere lascio a voi il giudizio ci sono 68 minuti di registrazione nel post antecedente a questo andate a guardare che tipo di proposte vengono fatte dalla capolista di vita e capirete che siamo assolutamente all'inadeguatezza rispetto alla difficoltà seria che è risolvere le questioni fare politica restituire all'Italia un ruolo internazionale non subalterno rispetto agli Stati Uniti alla Nato all'Unione Europea genderista e abortista ma recuperare un progetto valoriale di alternativa qual è alternativa per l'Italia che è appunto il partito politico che vi invito a sostenere a votare a far votare perché propone un programma preciso un programma immediatamente applicabile un programma di governo alternativo all'agenda Draghi e alla proposta di governo di Giorgia Meloni sostanzialmente continuativa rispetto all'agenda Draghi abbiamo qualcuno mi chiede di postare il video dove Silvana De Mari parla bene di Marco Rizzo Silvana De Mari ha fatto un video in cui dice che invita a votare Italia sovrana e popolare che è il partito di Marco Rizzo questo video è facilmente reperibile in rete io ripeto a Silvana dopo aver fatto anche questa esperienza incredibile del confronto con il capolista mio collega in Abruzzo di Italia sovrana e popolare di guardarsi questa registrazione e chiedersi se in coscienza ancora in vita a votare per gli abortisti per i nemici della famiglia che loro chiamano famiglia tradizionale e per coloro che vogliono il partito comunista e l'unione sovietica e ne sono nostalgici se questo è accettabile per Silvana De Mari vuol dire che Silvana De Mari ha perso il senno perché ripeto non è una una chiacchiera o un pettegolezzo ci sono 68 minuti di registrazione e si possono vedere così come c'è la registrazione di Silvana De Mari che invita a votare per Italia sovrana e popolare dove in tutta evidenza comanda Rizzo dalla Stella Rossa al capolista che ha imposto a lui stesso che mette i post con la bottiglia di champagne stappata perché è morto Gorbachev dicendo sostanzialmente era meglio l'unione sovietica se questa roba è accettabile per Silvana auguri ragazzi che vi devo dire quindi dicevo l'opzione che vi propongo rispetto alle 16 che abbiamo passato in rassegna 10 non ve le ho neanche considerate ho dedicato un po' di più di tempo a Giorgia Menoni per spiegare perché secondo me non può essere votata abbiamo attraversato le altre liste vi ho spiegato cosa sono e le abbiamo manifestate diciamo così è tutto plateale per tabulas quello che ho detto lo potete verificare e allora torniamo al Vangelo di oggi noi siamo i discepoli diversi quelli diversi quelli che mangiano e bevono sì per carità sono un po' strani scommettono oddio il capo fa lo scommettitore c'è il gruppo della scommessa collettiva oddio entrate se volete sono un grande pocherista sono il più grande il primo italiano ad essersi seduto a un tavolo mondiale dove ci si giocavano le centinaia di migliaia di euro e ne sono uscito vincitore sono uno veramente bravo su quel terreno lo sanno tutti però siccome non mi piace mai fare le cose da solo le faccio insieme e ho fatto la scommessa collettiva purtroppo è un gruppo molto chiuso si apre solo durante la finestra di settembre perché iniziano i campionati e poi a Natale per fare il regalo a chi vuole entrare e se posso cerco di farvi entrare adinolfighioccio a gmail.com invece di mettere i soldi in azioni in banca dove ve li sbriciolano primo semestre la borsa a meno 22,2% ricordatevelo con noi invece c'è chi se compra gli appartamenti ed è molto meglio investire così quindi chi vuole adinolfighioccio a gmail.com per entrare nel gruppo della scommessa collettiva siamo i discepoli diversi per questo e molti altri motivi adinolfi divorziato risposare a las vegas insomma le critiche sulla persona le conoscete quando ve le fanno magari succede che ve le fanno su di me o ve le fanno su simone di stefano perché simone di stefano è fascista eh quando sentite questo chiudete l'argomento persone e aprite l'argomento programmi e provate a prendere questo documento che adesso è un bel documento 68 minuti di video lo sottoponere dice questi sono i programmi degli altri e invece questo è il programma nostro perché noi abbiamo dato dei volantini dove c'è il simbolo le nostre facce e i programmi perché noi siamo questo le persone che hanno messo in campo questa iniziativa il nostro simbolo che spiega tutto alternativa per l'Italia è già una spiegazione no green pass è una spiegazione chiara di quello che non vogliamo mai più altro che Nordio e il TSO e venirci a prendere casa per casa candidato di Fratelli d'Italia me lo ricordo eh il sì alla vita il sì alla vita dal concepimento il diritto universale a nascere la centralità della famiglia la centralità dell'impresa familiare la centralità di tutto ciò che è importante davvero per costruire la solidità anche morale di una nazione radici profonde dunque di un cristianesimo nazionale che si rifà alle esperienze estere che noi abbiamo altri no ci rifà ci chiamiamo alternativa alternativa per l'Italia facendo riferimento all'alternative for Deutschland facendo riferimento all'esperienza di Orban in Ungheria facendo esperienza riferimento all'esperienza di Marine Le Pen facendo riferimento all'esperienza internazionale di Donald Trump che ha modificato radicalmente la Corte Suprema e attraverso una sostenza di quella Corte Suprema modificata da Donald Trump adesso forse veramente possiamo abbattere le folli leggi americane sull'aborto questo siamo noi chi è oggi che è vicino alla posizione di Donald Trump chi è oggi vicino alla posizione di Orban chi è oggi per la vita senza se senza ma chi è che ti dice ma quale la 194 non si tocca non solo si tocca ma si mette il diritto universale a nascere all'articolo 1 della Costituzione chi altro vi difende i sofferenti i disabili i malati gli oppressi dal meccanismo che ti dice andate a suicidarli col suicidio assistito e con l'eutanasia chi ha la posizione netta sul sostegno alla piccola e piccolissima impresa perché io voglio continuare ad andare in pizzeria non voglio andare da pizza att io voglio andare a continuare a scegliere il mio cappuccino nel bar che preferisco del quartiere non voglio finire dentro Starbucks perché io voglio che il tessuto della piccola e piccolissima impresa familiare italiana continui ad essere il tessuto economico del nostro paese non lo voglio consegnare alle multinazionali a dominio americano non voglio essere una persona subalterna alle decisioni di Joe Biden alle decisioni della Nato alle decisioni dell'Unione Europea genderista abortista non voglio dare 13 miliardi in più all'anno di spese militari rispetto alle 25 miliardi che sono già moltissimi e 13 miliardi di più all'anno invece di darli alle famiglie alle imprese perché con 65 miliardi di più nella prossima legislatura se votano alternativa per l'Italia noi facciamo il reddito di maternità facciamo il quotiente familiare diamo le case a tutte le giovani coppie sposate under 40 creiamo le condizioni reali affinché questi possano costruire famiglia facciamo il sostegno alla piccola e piccolissima impresa in maniera che il nostro tessuto sia salvaguardato e tutto questo senza neanche andare in deficit e se poi mai dovessimo andare in deficit non sarà certo l'Unione Europea a poterci dire nulla se noi avremmo riportato centralità dell'Italia rispetto alla scacchiera internazionale facendo sì anche pace con la Russia e recuperando gli approvvigionamenti energetici da Gazprom da Nord Stream 1 da Nord Stream 2 costruendo le condizioni per la pace e costruendo le condizioni anche per l'abbattimento delle bollette energetiche che non possono essere decuplicate perché qualche pazzo deve sottostare agli ordini di Joe Biden e degli Stati Uniti d'America quindi noi siamo a quest'alternativa qua che vi dice concretamente le cose che farebbe e vi dice concretamente cosa farà ed è veramente vino nuovo in otri nuove il Vangelo di oggi vino nuovo in otri nuove e avete documenti adesso per Tabulas per guardare le sedici liste nazionali ce ne sarà qualcuna poi locale che spunta qua e là le varie sul Tirole Fox Partai Union Val d'Oten ma le sedici liste nazionali guardarle e dire quindici liste devono rieleggere dei parlamentari di questa uscena legislatura una no ed è alternativa per l'Italia quindici liste non diranno mai che sono per la cancellazione della legge 194 e per il diritto universale a nascere una è per tutto questo è alternativa per l'Italia quindici liste non diranno mai che sono per la difesa solo della famiglia naturale dell'articolo 29 della Costituzione perché anche Luca Zaia ormai dice che esistono le famiglie non la famiglia una no solo alternativa per l'Italia difende il nucleo familiare secondo l'articolo 29 della Costituzione difende le coppie sposate difende l'istituto del matrimonio difende ciò che è e allora se tutto questo è così se siamo gli unici con un vero programma di alternativa di governo che copre la necessità dei disabili dei pensionati degli anziani che parla di sanità di istruzione di welfare da colmare con la natalità perché senza diritto senza reddito di maternità non riparte la natalità e non riparte il paese abbiamo una proposta alternativa di governo non antisistema alternativa di governo dove tutti gli altri invece fanno proposte generiche antisistema prive di valori priva di radici priva di cultura nazionale priva di cultura religiosa priva di ispirazione e poi si vede purtroppo gli esiti quali sono viva il comunismo sovietico o le stupidaggini che sentiamo dire da quelli di vita o quello che dice Italia Exit totalmente privo di riferimenti valoriali specchietti per le allodole tanto comodi che finiscono agevolmente a integrare il sistema televisivo e a integrare dunque la comunicazione mainstream rispetto alla quale noi non dobbiamo avere accesso sapete che il programma in mezz'ora il programma di Lucia Annunziata ha deciso che invita e ha già invitato Marco Rizzo ha già invitato De Magistris che nei sondaggi sono sotto di noi ma non invita noi a noi ha detto vi do un'intervista di 30 secondi che poi montano loro secondo gli interessi loro e secondo loro noi dovremmo dire sì è troppo chiaro che noi diciamo ma dateli a Calenda i nostri 30 secondi che c'ha bisogno è così poco presente sul Rai 3 ma dateli a lui dateli al figlio dei Parioli così cara Lucia Annunziata dalla tua casetta nel centro centro di Roma la truppe non si perde arriva ai Parioli comodamente non preoccuparti dei 30 secondi da elargire a noi a noi o siamo invitati come il compagno Rizzo e come il compagno De Magistris come i tuoi compagni del manifesto come i tuoi compagni della sinistra o altrimenti viola la par condicio perché è una violazione palese della par condicio dimostra che hai costruito un programma dove sono i figli e i figliastri ma noi non verremmo a mettere la foglia di figo su questa uscenità su questa ennesima prova che se c'è un movimento che temono è alternativa per l'Italia e poi che temono alternativa per l'Italia che Lucia Annunziata fa questo tipo di sgarbo alle regole alle leggi ai regolamenti della G.com e infine a noi perché a noi devono dare questo tipo di schiaffo noi ce lo prendiamo lo schiaffo per carità e però non veniamo a fare la foglia di figo i 30 secondi in intervista li puoi dare a Calenda che ha bisogno di spazio televisivo ne ha poco quindi credo sia utile darlo a lui gli diamo la forza anche dei nostri 30 secondi e ringraziamo per quei 30 secondi che ci volevi offrire nel cantuccino del cane ma noi a Catena non ci sappiamo stare mi dispiace Lucia noi a Catena e lo sai bene perché mi conosci non ci siamo mai stati in vita nostra e in Catena non ci staremo mai noi saremo sempre dignitosi con la nostra spina dorsale dritta e siate orgogliosi di questo siate orgogliosi di sapere che siamo gli unici che dicono no a uno spazio televisivo perché non si fanno umiliare non siamo lì a col cappello in mano ad accattonare noi diciamo no e dignitosamente diciamo a questa RAI vergognosa pagata con il cano delle famiglie italiane messo in bolletta elettrica che questo tipo di comportamento è pesantemente illegale pesantemente ingiusto e pesantemente antidemocratico oltre che evidentemente contro legge e regolamenti dello Stato italiano per carità si assumono la loro responsabilità e dimostrano la loro faziosità politica tutto bene così noi andremo avanti con quello che c'è andremo avanti con voi con le vostre liste broadcast con il documento di ieri della confronto televisivo che spiega perfettamente che quello che ho detto è pura verità ed è riscontrabile vi chiedo adesso la durezza che ci vuole in campagna elettorale oggi è 2 settembre tra 21 giorni 3 settimane esatte la campagna elettorale è finita abbiamo 21 giorni per trovare più croci possibili sul simbolo ricordati ricordatevi croce sul simbolo ha ragione Federica Lupi quando scrive non ti invitano in televisione perché se ti invitano fai il 10% alle elezioni Federica è la pura verità se noi avessimo lo stesso spazio di Calenda Meloni e Letta noi non prenderemmo meno del 10% alle elezioni non prenderemmo meno del 10% quindi se noi avessimo lo stesso spazio lo sanno benissimo che avremmo un consenso enorme l'unica strada che hanno è non dare lo spazio non dare spazio in alcun modo Domenico Gallo dice è illegale non è possibile ricorrere nelle sedi opportune ricordo a Domenico Gallo e a tutti che il sistema è sistema e non è un sistema per caso se tu oggi fai una causa diciamo così a Lucia Annunziata potremmo persino avere ragione tra sei anni sei mesi se ci dice benissimo i tempi purtroppo sono tre settimane e per avere ragioni in tre settimane in un'aula giudiziaria è sostanzialmente impossibile quindi quello che possiamo fare adesso è dare protesta politica e spazio politica alla nostra protesta per questo vergognoso trattamento che abbiamo ricevuto dalla trasmissione in mezz'ora di Lucia Annunziata devo fare adesso un confronto subio blu pur lì però non si sa quando si va in onda ho già registrato una cosa che non è mai andata in onda adesso registrerò un confronto con quelli di azione proprio quelli di calenda pensate un po' ma non so quando andrà in onda l'unica cosa che è andata finalmente in onda è quella di rete 8 che abbiamo messo ieri e ieri quella di tv 8 penso sia una documentazione chiarissima di quanto l'alternativa per l'Italia sia una davvero una credibile alternativa alla proposta che arriva dall'agenda Draghi e da Giorgia Meloni che la vuole rendere continuativa non vi ho chiesto mai oggi un like alla diretta però fate gli sti like ragazzi perché altrimenti l'algoritmo di facebook già ci butta giù già ha cancellato per Simone e Stefano la possibilità di parlare se non ci sono neanche i vostri like alla diretta la vostra condivisione sul vostro profilo e la conseguente utilizzo del link da mandare poi a tutti i vostri amici in giro per l'Italia poi ci schiacciano ancora più giù nella gestione delle dirette che come vedete non vi fanno mai arrivare le notifiche se non a rarissime persone che le hanno proprio chieste esplicitamente e noi veniamo trattati insomma come i pari avete visto quello che è successo a Simone e Stefano anche lì cancellato il diritto di parola di un capolista di una lista nazionale capolista a Roma peraltro collegio simbolo diciamo così a livello nazionale e nessuno ha protestato nessuno ha detto questa cosa è schifosa è vergognosa pensate se avessero tolto il diritto di parola a un frato gli anni oggi sulla stampa facciamo un po' di stampa e vangelo c'è una paginata intera su quanto sono fighi firmata da Tommaso Labbate sul Corriere della Sera fighi Bonelli e frato gli anni una pagina intera di Corriere della Sera un marchettone elettorale a Bonelli e frato gli anni poi c'è il marchettone a Renzi che torna nella stanza dove 14 anni fa decise di correre per la carica di sindaco di Firenze tutti i marchettoni infiniti sul Corriere della Sera per noi neanche una parola ricordatevi neanche una parola sul Corriere della Sera da quando abbiamo consegnato le liste quindi sappiamo come ce la dobbiamo cavare non siamo Bonelli e frato gli anni non siamo Renzi non siamo il PD non siamo neanche le partite di destra che hanno l'aiuto di Libero del giornale e della Verità noi ce la dobbiamo cavare da soli Pietro Cirasola dice come Trump sì con la difenza di Trump aveva i miliardi però sicuramente poi il modello trumpiano è interessante Trump iniziò sui sondaggi dato all'1% poi conquistò il paese noi i sondaggi all'1% ce li abbiamo quelli come punto di partenza ce li abbiamo adesso vediamo se riusciremo a conquistare il paese dipende da noi dipende far piovere centinaia centinaia di migliaia di croci sul simbolo di alternativa per l'Italia dipende dalle migliaia di persone che hanno seguito questa diretta mi auguro davvero che vorranno compiere questo questo lavoro cioè portare a più persone possibili il messaggio pensate che se oggi siamo contato a spanne questa puntata tra 2.000 3.000 persone bene costiamo 3.000 persone basterebbe che ognuno di queste portassero 300 voti 300 croci sul simbolo da qui nei prossimi 3 settimane 100 a settimana e avremmo i 900.000 voti che ci fanno entrare in Parlamento pensate un po' tutto sommato il risultato è ottimo da poter centrare ce la possiamo davvero fare ragazzi io adesso vado a volo a fare la diretta il confronto con azione se si presenta quello d'azione se la registrano effettivamente se effettivamente poi prima o poi la manderanno in onda ve lo farò sapere e nel frattempo vi chiedo però di far girare quella straordinaria materialità che è l'articolo il video con il confronto con Italia sovrana e popolare con vita così rispondo pure a Nicola Ucello noi abbiamo proposto a Italia sovrana e popolare come a tutte le forze non della piattaforma Draghi un'alleanza siamo stati respinti siamo stati respinti per le ragioni che vedrà in questo video caro Nicola Ucello in cui Italia sovrana e popolare si dichiara esplicemente nostalgica del comunismo sovietico e la nostalgia del comunismo sovietico la spinge a sragionare ci sono 68 minuti di registrazione che puoi gustarti è il post antecedente al mio Marco Tedde mi chiedeva insistentemente in quante circoscrizioni siamo copriamo il 72% della popolazione nazionale nelle piccole regioni alcune piccole regioni come il Molise come peraltro Italia Exit non ci siamo adesso uscirà quando sapremo perché ci sono ancora un paio di ricorsi ancora in piedi l'ufficialità definitiva la Corte di Cassazione per esempio la Corte detta sorteggio in cui noi dovremmo essere inclusi ma ancora non riusciamo a avere la sentenza in mano dell'ammissione al sorteggio 72% comunque di popolazione è già coperta ringrazio Gian Domenico D'Addabbo e chiede nel Lazio apri in tutti i collegi tutto il Lazio è coperto sulla scheda gialla mi raccomando croce sul simbolo ovunque vi troviate vado pure a Ventotene guarda nel Lazio a fare pubblicità al simbolo sulla scheda gialla mi raccomando perché è necessario ottenere più croci possibili ovunque ci sia il simbolo di alternativa per l'Italia questo è l'obiettivo risponderò a tutti coloro che mi iscrivono per la scopessa collettiva da Dinolfi chioccio a gmail.com con un po' di calma anche se siamo questa roba qui questi discepoli che mangiano e bevono e sembrano diversi da tutti gli altri discepoli che fanno sempre penitenza siamo anche discepoli che giocano si divertono sorridono baciano abbracciano qui persino quando abbraccio mia figlia in una foto sui social mi rompono le scatole quindi qualsiasi comportamento mi sono reso conto ormai è un comportamento che provoca la forma e l'essere additati però voglio dirvelo questo perché è l'ultima questione cruciale della mia vita della mia intera esistenza intanto rispondo a Gianni Bellocchi che no non ci siamo nei collegi esteri come nessuna lista chiamiamola dell'alternativa è presente perché ai collegi esteri se la giocano solo i partiti cosiddetti istituzionali che non raccolgono le firme noi invece nei cittadini iscritti all'aere all'estero non avevamo proprio le condizioni come tutti gli altri per poter raccogliere firme dicevo su quelli che hanno persino sono riusciti persino a criticare una foto con mia figlia che mi abbraccia che noi tutto questo alla fine lo facciamo per loro perché per noi il nostro incasso alla fine di tutto questo percorso non c'è noi spendiamo tantissimo impieghiamo energie ci facciamo prendere in giro ci additano sui social ci massacrano e facciamo testimonianza perché ci crediamo veramente perché siamo convinti che dopo vi saluto con questo richiamo al valore profondo della famiglia che è il valore che ci guida in questo lavoro e spero davvero che votiate tutti Alternativa per l'Italia anche pensando che così state costruendo un'Italia migliore per le prossime generazioni da Maria di Nolfi una buona giornata a tutti e ci ritroviamo lunedì con stampa e vangelo il weekend ci riposiamo un attimo lunedì stampa e vangelo però vi darò degli appuntamenti che forse qualcosina comincia a uscire anche su Rai e Mediaset durante questi giorni viva la famiglia scrive Nicola Ucello allora se sei per viva la famiglia devi votare Alternativa per l'Italia Nicola non esistono alternative al voto per Alternativa per l'Italia non voglio sentire che sostieni Italia sovrana e popolare a proposito dite la data di Mari che l'ho citata in maniera molto chiara dovrebbe fare credo un endorsement diverso dopo aver visto i documenti che vi ho detto di vedere insieme sono documenti filmati e non certo li abbiamo contraffatti noi Domenico Gallo scrive Dio ti benedica Mario Dio benedica tutti noi e la Madonna ci aiuti grazie Maria per tutto quello che hai fatto portandoci fino a qui da Maria di Nolfi un abbraccio a tutti buon fine settimana buona santa domenica tutti a messa mi raccomando a chiedere aiuto e protezione in questa che è la buona battaglia un abbraccio a chiedere aiuto